Il fate bene Napoli colpisce ancora, regala un pareggio insperato all'Udinese, facendo segnare un attaccante che da un anno non ha fatto gol. Eppure, fino a quell'istante era stato un buon Napoli, stranamente, che aveva concesso poco, e anzi, era andato vicino al 2-0 con Osimène, che il gol è stato annullato dal VAR. Primo tempo della noia più totale, io non capisco come possa salvarsi l'Udinese, cioè, onestamente io non capisco come possa salvarsi. Però, boh, non lo so, è sempre una squadra veramente povera di contenuti sotto ogni aspetto. Oggi doveva fare la partita della vita, nel finale ha avuto una reazione perché il Napoli ci mette tanto del suo e fa veramente beneficenza a tutti. Osimène, giustamente, infuriato perché ha fatto un partitone, ha fatto gol, un atto annullato, è sempre stato il più pericoloso. Il gol di Saxes ridà speranze, ridà speranze, però io tecnicamente faccio fatica. Ok, l'Udinese andrà a Lecce, probabilmente dopo il pareggio di Cagliari, 7 punti a 3 partite dalla fine. Ma se si gioca la partita in Lecce batte l'Udinese. Mi sembrano due squadre completamente diverse, una viva, vitale, che produce, gioco, un'altra. Udinese e Impoli, che sarebbero il confronto della vita, è l'ultima, Frosinone. Dipenderà un po' da tutto il resto, perché al momento hanno due punti, due, di vantaggio, Impoli e Frosinone e Cagliari. No, Cagliari, renta 3, scusate. Impoli e Frosinone. Sulla carta, il Sassuolo è fuori. Sulla partita che devi dire? Politano è sempre quello che produce di più, eh, onestamente. Cagliuste, solite, i limiti, lento, poco tecnico. In difesa sempre dei regali, perché è la tendenza della stagione. Il resto in questa partita c'è poco da dire, cioè, è stato così, ma incontro tutti e il biscotto su success. Tanti si erano giocati l'uno dell'Udinese, questa volta non è andata così. Anzi, devi ringraziare che proprio nel finale hanno trovato sto pareggio. Io credo che siano in Serie B. Continuo a dirlo, non vedo reazioni, perché il pareggio a Bologna era da vincere una partita. Con la Roma in 20 minuti regalato il gol. Oggi, contro questo Napoli, una delle peggiori difese, 11 partite con Calzona, 11 partite dove si è preso gol, ha creato pochissimo. Io credo che stiano in Serie B. Così, ma non fa bene ad arrabbiarsi.